Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio appena pubblicato in forma indipendente dal titolo Monachesimo e Iconoclastia. I monaci al concilio di Nicea II del 787 di Antonio Calisi che abbiamo un grande piacere di avere nostro ospite e al quale come mia abitudine io ascio subito la parola perché ci parli di questo interessante argomento. Prego Antonio, a te. Bene, grazie. Io ringrazio innanzitutto per l'invito, per l'occasione propostami per presentare questo lavoro che in realtà è vecchio, diciamo, è una seconda edizione riveduta e ampliata di un vecchio lavoro di dieci anni fa sulla partecipazione dei monaci al concilio di Nicea II del 787. Ho inteso ripresentare questo lavoro ampliando il contributo che il monachesimo ha dato in quel grande periodo dell'impero bizantino che è appunto il cosiddetto periodo iconoclasta che ha visto centocinquant'anni circa di lotte interne sia nell'impero bizantino ma anche all'interno della chiesa riguardo alla venerazione delle immagini. Metto in evidenza nel libro appunto le numerose cause che hanno determinato questo conflitto sull'icone ma spesso, diciamo, la colpa era scaricata sull'icone ma in realtà c'erano conflitti tra stato e chiesa su chi doveva prevalere di più nella politica e nella vita ecclesiastica o comunque nella vita in genere dell'impero bizantino. Quindi una sorta di antagonismo tra l'imperatore e il patriarca che ha visto in mezzo, diciamo, i veneratori delle immagini, gli iconoduli, coloro che veneravano le sacre immagini, i quali hanno patito sofferenze a causa di questi conflitti e tra questi quelli che si sono distinti maggiormente per la loro tenacia osservanza dei dogmi e in difesa del culto delle immagini, sono appunto i monaci che già sin da un primo momento hanno mostrato, come dire, la loro difesa al culto delle immagini sacre, già al suo sorgere, quando l'imperatore Lione III isaurico fece rimuovere un'immagine di Cristo sulla porta del palazzo imperiale a Costantinopoli, questa porta detta Calchè, probabilmente di bronzo, però sopra aveva un mosaico, probabilmente un mosaico di Cristo e l'ufficiale che salì, lo spataro candidato, l'ufficiale che salì sulla scala per rimuovere questa immagine di Cristo fu rovesciato, cadde e morì a causa soprattutto delle monache, le quali si opposero tenacemente, ma questa insurrezione fu soffocata, ahimè, nel sangue e quindi nacque un vero e proprio periodo di persecuzioni. Io non so se devo fare tutta la storia, o ci sono delle domande in modo particolare. No, beh, mi interessava capire, il libro entra proprio nello specifico, nelle ragioni che erano teoriche, teologiche, ma in modo particolare il libro si concentra sul concilio di Nicia II. Grazie al fatto che abbiamo gli atti del concilio in sette sessioni, sono riportati tutti gli interventi di tutti i partecipanti, dove una stragrande maggioranza dei presenti, quasi un terzo dell'assemblea conciliare, sono monaci. Allora la domanda è come mai i monaci partecipano a un concilio, dal momento che le sedute sinodali sono riservate solo ai vescovi. E da qua è nata, diciamo, la mia curiosità storica nel voler indagare come mai questa presenza folta, monastica, dei più grandi, i più grossi, prestigiosi monasteri di Costantinopoli, o comunque non della città solo, ma di tutto l'impero bizantino. Dal loro interventi è emerso dei dati importanti. Io chiaramente non mi dico tutto, sono poi dove comprate il libro, ma ho messo in evidenza soprattutto il loro ruolo, la loro preparazione e la loro competenza negli interventi che hanno, come dire, indirizzato, guidato poi le decisioni dei vescovi a approvare il culto delle immagini sacre. Il motivo della loro presenza, ma c'è una curiosità, è da attribuire al fatto che al concilio iconoclasta di Ieria, convocato da Costantino V, figlio dell'imperatore Leone III Isaurico, c'era una presenza, dicono gli atti, di padri spirituali. Allora c'è da chiedersi come mai dei monaci che hanno partecipato a un concilio iconoclasta che condannava il culto delle immagini sacre. E allora si è capito che Costantino ha voluto asservire alla sua decisione conciliare anche il monachesimo, perché sapeva che era lo zoccolo duro dell'impero bizantino e quindi sottomettendo anche il monachesimo alle sue decisioni iconoclaste avrebbe ottenuto una sorta di pace all'interno dell'impero. E chiaramente questi monaci che parteciparono erano igumeni, abati di monastero da lui stessi messi e quindi filo imperiali. aveva fondato dei monasteri che avessero questo scopo di divulgare, di essere promotori dell'iconoclastia all'interno dell'impero bizantino. Non solo, ma rinnovò anche l'episcopato bizantino promuovendo nuove diocesi e ordinando vescovi iconoclasti. Per cui questa preparazione ha fatto sì che anche nel concilio di Nicea ci fosse un orientamento inevitabilmente dogmatico, filo imperiale, contro la venerazione delle immagini. Per cui quando fu convocato il concilio di Nicea II del 787, l'ultimo dei sette concili ecumenici, l'imperatrice Irene intanto preferì nominare come patriarca il suo segretario, un laico e non un monaco, questa è una scelta molto interessante, che avesse il compito di organizzare, era un uomo anche abile dal punto di vista amministrativo, segretario imperiale, abile nell'organizzare un concilio ecumenico, invitando anche i rappresentanti degli altri sedi patriarcali di Roma, Antiochia, Alessandria e Gerusalemme, per cui preparò sicuramente dei dossier da fornire ai vari partecipanti con materiale biblico patristico tali da arricchire diciamo la discussione all'interno del concilio verso l'orientamento iconodulo della venerazione delle immagini. I monaci parteciparono e diedero un grande contributo, anche se io sottolineo che una parte del monachesimo si rifiutò di partecipare e questo è un segno che dice che ancora non si è maturata una coscienza riguarda il culto delle immagini sacre. I vescovi presenti al concilio erano la maggior parte iconoclasti, ordinati all'epoca dell'iconoclastia, di cui molti dovettero fare una sorta di abiura per iscritto della risia iconoclasta. Però alla fine, ecco, grazie all'abilità di Tarassio, ma soprattutto alla partecipazione dei monaci che sottoscrissero una bozza della dichiarazione finale, ma non la dichiarazione finale vera e propria, abbiamo una, come dire, ricomposizione teologica e politica dell'impero bizantino in quel periodo. Però, come ben sappiamo, il concilio di Nicia del 787 non risolse il problema, si riaffacciò di nuovo l'iconoclastia e dobbiamo aspettare il patriarca Metodio, l'imperatrice Teodora, un'altra donna, che riesce, riescono a sistemare la situazione nella prima domenica di Quaresima, che ancora oggi la liturgia bizantina festeggia, ricordandola come la domenica della ortodossia, e c'è della vittoria definitiva del culto delle immagini sull'eresia iconoclasta. Questa è in sintesi tutto il lavoro. Poi continuo con anche altri padri, Teodoro Lostudita, che nel secondo periodo iconoclasta è stato un valido difensore del culto delle immagini, scrivendo in modo particolare un trattato in tre capitoli, o meglio tre trattati, contro gli iconomachi, contro gli iconoclasti, e lui a modo di dialogo tra ortodosso ed eretico, con domande e risposte, ricostruisce qual è il fondamento teologico del culto delle immagini che è l'incarnazione. Dio si è fatto uomo e per questo noi possiamo rappresentare la sua divinità nell'immagine di Cristo. è un argomento interessante, oltretutto è durato molto a lungo il conflitto e anche prodotto danni irreparabili perché... Sì, danni irreparabili dal punto di vista della storia dell'arte. Praticamente abbiamo un buco in Asia minore dove il conflitto è stato più forte riguardo a una ricerca delle immagini sacre di quel periodo. Qualcosa si è osservato ma nell'Italia meridionale. In Italia meridionale abbiamo delle preziosi testimonianze poche, chiaramente stiamo parlando dell'ottavo secolo, ma interessanti dal punto di vista dell'iconografia e della storia dell'arte bizantina, purtroppo non più ritracciabili in Oriente se non in Cappadocia, in quella zona che noi conosciamo molto bene delle grotte rupestri dove proprio per l'inaccessibilità a quei luoghi molti affreschi di quel periodo si sono conservati, che sono tra l'altro molto simili all'iconografia presenti nell'Italia meridionale in genere, in Puglia, Calabria e nella Sicilia orientale. Sì, nei luoghi dove l'impero bizantino è rimasto più a lungo, insomma, presente. Tra l'altro non solo più a lungo, ma diciamo almeno l'Italia meridionale faceva parte dell'impero bizantino come provincia, il tema di Longobardia ed era al trentanovesimo posto nella taxis delle quaranta province dell'impero bizantino, quindi una regione periferica dell'impero per cui gli editti, iconoclasti imperiali di Leone III e poi le decisioni del concilio iconoclasta di Costantino V non sono arrivate, anzi per molti storici questi sono stati luoghi di rifugio dei monaci perseguitati che fungendo dall'impero, diciamo dal territorio imperiale dell'Asia minore, da Bisanzo, da Costantinopoli, hanno raggiunto questi territori dove potevano tranquillamente continuare la loro ascesi, la loro vista, la vita monastica, l'esichia e molti iconografi anche la loro attività pittorica. È davvero un tema molto interessante, quindi bisogna correre ad acquistare il libro ed è anche molto facile perché lo potete trovare su Amazon. Quindi è importante ricordarne il titolo che è Monachesimo e iconoclastia, i monaci al concilio di Nicea II del 787. L'autore è Antonio Calisi, è stato pubblicato da pochissimo nel 2023 e io consiglio veramente di cuore a tutti di acquistarlo perché non è un argomento trattatissimo, a meno che non si parli di specialisti ovviamente. E per specialisti, senz'altro, o gli amanti della storia dell'impero bizantino. Quindi io ringrazio tantissimo Antonio Calisi per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. Ci mancherebbe. Vi ricordo che potete continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org dove potete trovare tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e a presto. Salve. Grazie a tutti.